Bene, stiamo lavorando bene, è chiaro che ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare, lo sappiamo, però lavoriamo quotidianamente, siamo fiduciosi e siamo contenti del nostro percorso di avvicinamento al campionato. Oggi un buon test, al di là dei risultati, era importante mettere benzina nelle gambe. Sì, la cosa più importante era mettere minutaggio anche per chi magari in precampionato ha giocato meno, è stato comunque un buon test, raccogliamo come sempre cose positive e cose da migliorare e guardiamo insomma al prossimo impegno. Sabato c'è la prima di campionato, seconda giornata, Albrali arriva l'Ascoli, che partita ti aspetti e che Modena servirà per ottenere il primo risultato positivo? Sarà una partita difficile come tutte le partite Serie B, l'Ascoli è una buona squadra, ha cambiato allenatore anche loro, quindi sicuramente partiranno con delle novità, però siamo fiduciosi come ho detto e siamo pronti per il campionato. Che campionato ti aspetti e secondo te il Modena quale ruolo potrà recitare all'interno del torneo che hai detto? Non lo so, è troppo presto per saperlo, adesso bisogna come ho detto lavorare, ragionare quotidianamente di partita in partita e vedremo poi nel periodo clou dove saremo e che obiettivi potremo porci. Per adesso lavoriamo e come ho detto pensiamo all'Ascoli.